Anche quest'anno è in collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Comart, l'associazione dei commercianti di Terra Nuova che tengo a ringraziare in maniera particolare perché mettono sempre un grande impegno e una grande passione. Cominciamo fra l'altro con un evento particolarmente gradito perché avremo i Modena City Rambler. Prima saranno presenti in sala consigliare il 7 di giugno alle ore 18 per un incontro in collaborazione con Libra. Noi vogliamo concentrare in particolar modo l'attenzione sui beni confiscati alle associazioni malavitose. Ne abbiamo due a Terra Nuova, un appartamento alle ville e un capannone nella zona di Paugilupi e stiamo cercando con la collaborazione della regione di recuperarli. Hanno un importante valore simbolico perché vengono sottratti alla mafia e restituiti alla collettività per usi sociali. Poi la serata proseguirà dalle 19 in poi come sempre in piazza con la presenza gradita dei pub teranovesi e quindi ci saranno stand gastronomici e bevande e poi il concerto in piazza degli Strano Baccano e a seguire dei Modena City Rambler. Nelle altre due piazze avremo da un lato la piazza dei bambini in piazza Trento quindi clown, giochi, il teatro dei burattini, varie iniziative per i più piccoli e invece in piazza Unita Italiana avremo il concerto degli Angeli in Blue Jeans e dei Radio Elvis. Come si vede diciamo una serie nutrita di iniziative, invitiamo tutti e soprattutto confidiamo in un metodo clemente perché fino ad oggi purtroppo il tempo ha imperversato in maniera diversa.